Ragazzi, come va? Allora, 77esimo minuto di Bari su Tirol, una partita tirata per parafrasare Tirol, abbastanza tirata, 2-2, il Bari sta facendo una buona gara, a parte i gol presi, ha fatto due gol al Tirol, sotto i due gol abbiamo recuperato due gol, sul Tirol adesso molto rinunciatario per tutto il secondo tempo, molto rinunciatario e quindi noi, insomma, il Bari sta giocando abbastanza bene, ha fatto un euro-goal Salcedo, direi ai tifosi delle squadre no calcio, anticalcio, della Serie B, venitevi a vedere il gol del Bari, il gol del Bari che ha fatto Salcedo, che Dira non sta giocando, preservato per il Mondiale, mandiamo un giocatore noi al Mondiale, al Mondiale di Calcio che sia in Qatar, dalla Serie B, dal Bari, i ragazzi li mandiamo in Qatar, che Dira, preservato, non sta giocando, un giocatore che ci ha tolto molte castane dal fuoco, adesso, diciamo, un arbitro un po' tirato, un po' tirato, c'erano molti falli sul Bari non fischiati, al limite, su Tirol una squadra bella anelata, devo dire, da Bisoli, che comunque è un allenatore di rango in Serie B, una squadra che fa un bel calcio, quindi complimenti al su Tirol, si sapeva che era una squadra forte, non perde da fine agosto, non perde da fine agosto, e niente ragazzi, qua speriamo tutti nel miracolo, il Mignani poco fa ha sostituito Bellomo e Salcedo, il Bari è andato in vantaggio, è andato in svantaggio per due reti nel secondo tempo, due reti su traversone, sul colpo di testa, abbiamo un problema, secondo me, sul colpo di testa, prendiamo troppi gol. Iscriviti al canale, per favore, ragazzi, scusate, non mi ero dimenticato, iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, un like e un'iscrizione, grazie. Dicevo, continuiamo a prendere gol di testa, senza Vicari oggi, stanno facendo bene Ricci e di Cesare, però sui tre versioni siamo carenti, siamo carenti perché abbiamo preso il gol di testa col Frosinone, abbiamo preso il gol su Mischias, la specie di testa, si di piede, con Lascoli, adesso c'è il Bari, in avanti, calcio d'angolo. E oggi abbiamo preso due gol di testa, ma proprio due gol di testa in cui il nostro calciatore, in questo caso di Cesare, credo, è arrivato in ritardo, ha staccato Gognuk, ha fatto un gollazzo il secondo, e insomma, dobbiamo un po' migliorare questa parte perché non è che sui cross avversari. Poi, come analisi della gara, che poi la farò più specifica, devo dire che gli avversari nostri ci pressano molto, ci pressano e non riusciamo tanto a giocare con questo pressing. Naturalmente, quando il pressing aumenta della scuola avversaria, ci vuole qualità, bisogna mettere la qualità in campo per uscire dal pressing. San Siedo ha fatto un gollazzo, secondo me uno dei più bel gol della Serie B fino adesso al volo di destro, su traversone di Ricci, finalmente un po' di cross buoni ragazzi. Abbiamo segnato su calcio da fermo, lo facevo notare in conferenza stampa, gol del Bari su calcio da fermo, a fine primo tempo con Belluomo che mette una palla per di Cesare, anche oggi non era facile, non è facile prendere questo pari, pareggiare, che comunque se dovesse finire così sarebbe un buon risultato. come non è stato facile pareggiare a Benevento, Benevento che credo stia perdendo in casa della Spal, in casa della Spal a botta, porta a palla, cross, gol! No ragazzi, Antenu ci si è mangiato un gol, no che si è mangiato un gol, ci ha fatto un paratone, ci ha fatto un paratone su botta, su Antenu, Antenu ci devo dire un po' moscetto oggi, ora si è fatto un po' ripagare con questo colpo che ci stava per dare la vittoria in questa partita, vittoria che meriteremo perché stiamo giocando bene, il Bari sta giocando bene, anzi il Benevento è ribaltato, il Benevento è ribaltato la Spal, sta vincendo 2-1 alla Spal, ottimo risultato del Benevento, la regina è passata in vantaggio 2-1 a Venezia ed era sotto di un gol, il Cosenza sta conducendo in casa col Palermo 3-2, insomma risultati scoppiettanti direi, e niente, devo dire, Belluomo ha giocato bene, ha messo una bella palla, è sull'assist per il primo gol di Cesare, per il primo gol di Cesare ha messo l'assist Belluomo e quindi ha fatto una buona gara, da noi un po' devo dire poca densità sia in avanti che dietro per il Bari, cioè quando attacchiamo sembra che loro siano 200 e noi dietro e quando attaccano loro sembra che loro siano 300 e noi due, quindi secondo me si dovrebbe migliorare sulla densità quando spostiamo la squadra nel portare la palla, gli arbitri non ci stanno molto aiutando, hanno fatto bene i Mignani oggi a lamentarsi a tu per tu con l'arbitro, faccia a faccia perché non ci fiscano mai nulla gli arbitri, molti falli non ce li danno, insomma il Bari è un po' penalizzato, l'abbiamo visto col Frosinone che c'era un rosso per loro non dato e l'abbiamo visto, c'era un rigore su Ricci contro il Benevento credo, non dato se non ricordo male, insomma Bari è un po' penalizzato, però il Bari che era andato sotto i due gol con una squadra forte in casa riesce a recuperare già di per sé e il secondo tempo è tutto a nostro appannaggio, tutto appannaggio del Bari perché stiamo conducendo noi, stiamo tenendo palla e adesso se Dio c'è la manda buona. devo dire bene anche Bellomo che prova il tiro da fuori, bene anche provare il tiro da fuori quando tutte le strade sono chiuse e loro in difesa sono abbastanza coriacei, ci stanno pressando tanto bene provare il tiro da fuori, poi Schiedler l'ho visto un po' accartocciarsi, un po' arrancare però non sono quelle le sue caratteristiche della velocità o del dinamismo, attenzione mamma mia che gol che si sono mangiati ragazzi, che gol che si sono mangiati ragazzi, si sono mangiati un gol proprio da ingoiare la saliva, seguite? doppio dribbling, in difesa stiamo facendo un po' acqua oggi, quello che vi ho detto prima non è possibile che Ricci, questo passi in mezzo a Ricci, abbiamo rischiato di andare sotto 3-2 sarebbe stato veramente un peccato e non avrebbe dato valore al gran recupero che stiamo facendo poi purtroppo magari forse Mignani si è voluto un po' coprire mettendo Benedetti Torrento Salcedo che ha fatto comunque un gran gol facendo vedere che il colpo ce l'ha quando la palla arriva giusta Ricci ha messo un bel cross, come vi dicevo bell'uomo anche, bel cross, bella partita di personalità complimenti a bell'uomo, tutta la squadra devo dire, tranne poi su quei due gol con quei colpi di testa che proprio non ci volevano, si sente sempre un po' la mancanza di Maiello nella densità dietro come vi dicevo e naturalmente oggi siamo orfani anche di Folorusho che è fondamentale di Kedila ci sono tre titolari inamovibili però che di la parte per il mondiale dovremmo abituarci forse a questo setting di attacco fisso con Salcedo titolare e Schiedler che a quanto pare al placet del tecnico però Schiedler va servito su cross, su cross laterali va servito di più secondo quelle che sono le sue caratteristiche niente ragazzi, altre squadre in testa stanno correndo il Bari deve, ha dimostrato oggi, sta dimostrando di essere una squadra forte Bari sul tiro devo dire una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre e le statistiche fino adesso ci danno 4 tiri pari in porta possesso palla 70% Bari ragazzi oggi Bari fa 70% possesso palla 70% possesso palla loro 11 falli, noi 6 7 corner per noi, 4 per loro insomma una superiorità del Bari 8 tiri fuori dalla porta loro hanno fatto 6 tiri in porta, noi 12 il doppio dei loro, no 6 tiri in generale loro 6, noi 12 4 nello specchio, 8 fuori loro 4 nello specchio, 2 fuori forza Bari sempre, vediamo come va a finire non dimenticate di supportarmi con un like e con un'iscrizione iscriviti al canale e vediamo se riusciamo a fare se riusciamo a fare il gol il gol siamo all'ottanta settesimo botta difende palla seguiamo insieme questa azione la mette in mezzo Schiedler ce l'aveva ce l'aveva Schiedler ragazzi ce l'aveva Schiedler e botta mette una grande palla una grande palla mette botta niente Bari che comunque stando così le cose a San Nicola per oggi stiamo incontrando una squadra tosta come saranno tutte le squadre toste perché secondo me i Serie B sono tutte toste le squadre il confine è labile si basa molto sulla forza del gruppo e sulle capacità tecniche niente altro cross per il Bari Ricci Ricci una grande partita ragazzi bel giocatore questo qua Ricci sulla fascia magari non attentissimo in difesa ma quando si atterri attaccare ha molta gamba molto polmone mette buoni cross Mignani molto aggressivo molto molto convinto di Pachina fa bene a far sentire anche dagli arbitri seguiamo questo calcio d'angolo insieme c'è Antenucci che viene spintonato niente sul calcio d'angolo questi di te ripartiamo? no mi dai fallo a loro va bene ciao ragazzi cheers forza Bari sempre iscriviti al canale fatemi sapere quello che ne pensate e superatevi con un like ciao cheers ciao